residenti, quindi oggi sono sbloccati e oggi queste risorse sono disponibili. Secondo, il ripascimento del Poetto, e a me la spiaggia come adesso non piace, ma le responsabilità sono di tutti, innanzitutto la giunta di centro-sinistra che aveva progettato quell'intervento. Terzo elemento, il Poetto. Il Poetto è sicuramente la spiaggia dei Cagliaritani, la spiaggia che tutti quanti amiamo, però è anche uno strumento, deve essere uno strumento di sviluppo del nostro turismo. Io vorrei sapere di cosa dovremmo vivere se non mettiamo in campo gli strumenti di crescita turistica per Cagliari. L'economia nostra è fortemente legata a quello che riusciremo a fare col turismo nella nostra città. Ed è perciò che parlando di Poetto, oltre a parlare di autorità unica, cosa di cui ho già trattato col sindaco Contini, oltre a parlare di pedonalizzazione di mezzi di trasporto di metropolitana leggera, bisogna parlare di un polo turistico che coinvolga l'ospedale marino vecchio, l'ospedale marino nuovo, e l'ipodromo finalmente portato ad efficienza, e poi un grande punto di vela, un grande centro nautico nella zona di marina piccola, che possono essere due elementi che portano sviluppo e ricchezza a Cagliari. I baretti. I baretti, sempre tornando al grande vecchio... Velocissimo, mi deve rispondere, perché non ce la facciamo andare finitando. Prego, proprio cinque secondi. Sempre ritornando al grande vecchio Soro. Sono diventati elementi identitari proprio per il Poetto. Quindi non vanno demoliti adesso. Non possono essere demoliti, perché fanno parte ormai della natura e della vita del Poetto. A calcio, lo stadio, a Cagliari o a Elmas? Ci spostiamo nell'ambito sportivo. Io riporto dallo sport per parlare del Poetto, perché lo so che il senatore Fantola non lo sa, perché era in tutt'altra faccenda facendato. Per mettere una rete da beach tennis o da beach volley al Poetto è necessario, siccome non hanno fatto nulla, non hanno fatto il piano di utilizzo elettorale, non ci sono regole, perché nel frattempo il Poetto è passato nelle competenze dal Demanio al Comune di Cagliari e il Comune non si è attrezzato. Ricordo che ci vuole permettere una rete da beach volley la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza, il Prefetto, il Questore, la Provincia, il Comune. Ve lo immaginate voi che cosa significa? Ed è per questo che... no, ma l'autorità non serve a nulla. Serve le regole del Comune, che col pool dia le regole certe, per creare la città dello sport anche nell'utilizzo dei luoghi all'aperto come il Poetto. Oggi tutte le strutture sportive che sono al Poetto sono fatte dai privati e non dal pubblico, che pure si è potuto intervenire. L'altro elemento è lo stadio. Lo stadio Santeria, l'uso dello stadio Santeria, io sono un appassionato, ho seguito i campionati dalla C alla B, dalla B alla A, insomma la scalata verso la Serie A quando l'allenatore era Ranieri, ma quindi ci tengo a vedere il Cagliari giocare nel suo stadio. Però il tema è che lì, se il privato, la società Cagliari Calcio, decide di andare a giocare da un'altra parte e costruire un altro stadio, rimarrà sempre a Cagliari il tema del come utilizzare lo stadio Santeria. Io propongo di utilizzarlo nel caso in cui proprio non si possa far giocare il Cagliari Calcio. Credo che si possano attivare dei meccanismi con le scuole, con le federazioni sportive per creare la cultura dello sport in città, in modo tale da abbattere anche i costi oggi ingenti che la sanità pubblica sopporta perché l'obesità, il tasso di obesità, era un dato fornito l'altro giorno dalle ASL, è cresciuto del 9% e va increscendo e quindi ulteriori costi per la sanità pubblica. Grazie Zedda. Fantola, io le devo rubare a questo punto 50 secondi e deve rispondermi in un minuto sullo stadio. Allora io sono caglieritano, tifoso del Cagliari e voglio che il Cagliari giochi a Cagliari. Quindi farò di tutto e secondo me ci sono le condizioni perché il Cagliari giochi a Cagliari. Punto. Secondo, c'è un problema dello sport che non è tanto un problema dell'obesità. È il problema di trovare risorse per lo sport, per la cultura e per i giovani. E non ci sono perché i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono sempre di meno. Perciò abbiamo proposto tre onlus che i caglieritani possono finanziare con il 5 per 1000 dell'IRPEF per un totale di 3 milioni di euro. Oggi queste risorse vanno direttamente a Roma. Noi chiediamo ai caglieritani di non mandarle a Roma ma di darle alle onlus del comune di Cagliari perché si possa finanziare le associazioni sportive, le speler, la rinanzas che non stanno come tirare avanti, i centri culturali che abbiamo necessità di tenerli aperti tutto l'anno perché portano cultura, turismo e denaro. Scusi un attimo, un attimo, è anche i centri commerciali, è anche i centri giovanili e le parrocchie. Deve chiudere. Zedda, parliamo del nostro patrimonio culturale. Tu, Vigeddu, come conciliare il turismo, l'apertura alle visite dei sardi, dei cagliaritani, dei turisti di questo meraviglioso sito, il più grande al mondo, è la legge che tutela questo sito? Io sono convinto che per attirare turisti si debba puntare su cultura, spettacolo, ambiente, arte, in modo tale da attirare flussi turistici. Ci sono le possibilità perché Cagliari, dall'ambiente alla cultura all'arte allo spettacolo, si affermi su scala europea quale meta turistica. Uno degli elementi sono sicuramente i parchi e il parco di Tu Vigeddu che sorgerà. Io credo che a Tu Vigeddu debba crearsi un parco, essere realizzato un parco, non solo per le visite domenicali, ma per la città, per gli cittadini di Santa Vendrace, che non hanno un luogo dove portare neanche i bambini all'aperto a giocare e quant'altro, e per gli abitanti di Smirionis e della zona di San Michele, che non hanno lo stesso. Al di là del parco del Monteclaro, sull'altro versante, il versante che dà su Tu Vigeddu, i via Smaglias e quant'altro, non ha una zona attrezzata a verde. E con le imprese, per non incorrere in altri problemi, sapendo che ormai le norme, le sentenze hanno dato ragione a chi voleva tutelare quelle aree, chiedere all'impresa di investire negli spazi militari in fase di smissione, nelle tante cubature che dobbiamo restituire per dare casa, lavoro al mondo dell'edilizia e per realizzare anche spazi, riqualificando quelle aree urbane di proprietà del comune che sono in stato di abbandono e di degrado anche nel centro della città. Grazie a Seda, Fantola, Tu Vigeddu vuol dire anche turismo, aprire Tu Vigeddu, portare i croceristi a visitare Tu Vigeddu, quindi si possono trattenere a Cagliari e non stanno poche ore e poi vanno via. Lei ha presentato alcune delibere che saranno quelle che ufficializzerà poi se dovesse diventare sindaco. Una di queste riguarda proprio il turismo. Sì, noi vogliamo portare a doppiare la presenza turistica a Cagliari. Abbiamo presentato una prima delibera della giunta comunale dopo queste elezioni che prevede di portare 100.000 turisti in più a Cagliari con la residenza di tre giorni nella nostra città. E considerando che ciascun turista lascia sul territorio circa 80, 100, 120 euro, vorrebbe dire lasciare sul territorio di Cagliari circa 40 milioni, 50 milioni di euro. Un vero boccata d'ossigeno per i cagliaritani, per le aziende cagliaritane, i commercianti, i ristoratori e per tutta Cagliari. Però naturalmente per fare questo non basta questo, bisogna caratterizzare Cagliari e caratterizzarla sul piano culturale importantissimo. Tuvigeddu quindi diventa centrale, la più grande necropoli al mondo, bellissima. Dobbiamo aprire subito il parco, immediatamente, un parco che va comprendendo le aree sopra il Cattino e quelle di Santa Vendracce. È la priorità. Su questi temi, guardate, si discute, è giusto discutere, si discute anche animatamente, fra istituzioni, privato, pubblico, ma alla fine bisogna arrivare una scelta. Io ho conosciuto Tuvigeddu pieno di erbacce, di topi ed è ancora un immondezzaio come era tanto tempo fa. Non è più sopportabile. Il sindaco deve mostrare tutta la sua autorevolezza e mettere d'accordo le diverse istituzioni perché si apra il parco, tenendo conto che per l'apertura del parco servono risorse private, perché senza risorse private non riusciamo a realizzare il parco di Tuvigeddu e quindi l'accordo tra le istituzioni deve comprendere anche l'accordo col privato. Abbiamo 30 secondi a testa per un appello finale perché stiamo chiudendo la trasmissione, ma veramente 30 secondi, perché se no andiamo fuori tempo massimo, perché sappiamo che al ballottaggio basta un voto in più per fare la differenza. Prego Fantola. Cagliari è una bellissima città. Uno deve essere cieco, ha vissuto su Marte per non aver capito come si è cambiato in questi anni. Bene, oggi deve fare un salto di qualità, deve mettere in campo tutta la propria potenzialità, le proprie bellezze, deve mettere in moto investitori, imprese, cittadini per creare vero sviluppo e vera occupazione. E questo lo può fare puntando sulle nuove tecnologie, sull'industria manufatturiere, sulla cultura, ma soprattutto sul turismo. Sì, sul turismo, perché il turismo è un sistema capace di alimentare un'enorme catena fatta dal commercio, dall'artigianato e dalle piccole industrie. Io chiedo ai cittadini cagliaritani di votare per il proprio sindaco, di scegliere liberamente ovviamente e di votare un programma. Noi non abbiamo mai governato la città di Cagliari, ci candidiamo per una città che guardi ai giovani, ai miei coetanei, alle giovani generazioni, ai nonni e ai padri che hanno quella apprensione, il futuro di lavoro, di sicurezza nel lavoro dei figli e dei nipoti. Chiedo ai cittadini di Cagliari di cambiare, di dare fiducia al cambiamento, alle idee, alle energie nuove, in modo tale che si possa affermare una nuova pagina della città di Cagliari. Con i temi e sui temi che abbiamo raccontato insieme alla città, con la quale dialogheremo, discuteremo, coinvolgeremo nelle scelte passo passo, perché il Comune di Cagliari sarà aperto e io sarò a disposizione dei cittadini di Cagliari. Tempo esatto, assegnata a tutte e due, quindi siamo in chiusura, lunedì sera dopo lo spoglio delle schede sapremo chi tra Fantola e Zedda governerà la città per i prossimi cinque anni. Grazie, arrivederci. Grazie.